Arriverà oggi in giunta a Roma la delibera per la pubblicazione del bando che apre all'immissione di mille nuove licenze taxi. Dopo il via libera del Campidoglio si dovranno attendere 60 giorni per avviare le procedure di selezione. Secondo i sindacati le prime concessioni dovrebbero arrivare entro gennaio, a giubileo già iniziato. Ma tra i rappresentanti dei lavoratori c'è chi teme tempi più lunghi e critica l'amministrazione per i ritardi nell'affrontare un problema che oltre a causare pesanti disservizi agli utenti non ha dato una bella immagine della città con tutti quei turisti in attesa sotto il sole a termini. Seditere legato a una serie di variabili tra cui gli eventuali ricorsi sembra invece assodato che per la licenza i tassisti dovranno versare 73.000 euro, 58.200 che si candidano al servizio di trasporto passeggeri con mobilità ridotta. Le vetture dovranno essere dotate di pedana per agevolare l'accesso di persone in carrozzina. L'80% dell'incasso sarà redistribuito tra i conducenti delle auto bianche mentre il comune tratterrà il 20% per finanziare interventi per la mobilità e la realizzazione di corsie preferenziali.